Da Roma 200.000 euro per l'organo della chiesa dei Casoni di Mussolente. Tra gli interventi finanziati nell'ambito del progetto Bellezza recuperiamo i luoghi culturali dimenticati. Tre in provincia di Vicenza. Il gioiello in questione è uno dei rarissimi Giacobbi, opera 32 del 1852. Nel settembre 2016 l'organo è stato riconsegnato alla comunità grazie a un intervento che ha visto lavorare in strettissima sinergia comune, parrocchia, comitato e cittadini. Oggi l'arrivo di questa cifra è un grande traguardo, ormai si era un po' persa la speranza. Ormai non ce l'aspettavamo più perché sono passati quasi dieci anni dalla prima domanda e quindi dopo aver fatto più volte ripetutamente le stesse pratiche ormai c'era un po' di scoraggiamento. Ma la buona novella è arrivata. È stata una notizia di fine anno che così ci ha aperto il cuore e ci fa iniziare il 2018 in maniera veramente positiva. Un grande risultato per la parrocchia di Casoni, per i comuni di Mussolente e per la storia soprattutto di tutta quanta la cittadinanza. Don Alessandro non ha seguito tutto l'iter che ha visto protagonista l'ex parroco di Casoni, Don Angelo Rossi, ma oggi ha espresso grande gioia nel risultato raggiunto grazie all'unità di intenti. Io sento anche la responsabilità di fronte anche a questo riconoscimento a livello nazionale di far crescere anche dentro la nostra comunità il desiderio di apprezzare, di gustare, di valorizzare questo tesoro che abbiamo ricevuto dai nostri padri e che speriamo che possa accompagnare anche sempre di più anche le nostre liturgie quando ci ritroviamo a celebrare l'Eucaristia accompagnati da un organo veramente straordinario e bello. Grazie